L'Istituto Internazionale Edoardo Agnelli è una scuola paritaria che nasce agli inizi degli anni 40 del secolo scorso allo scopo di fornire un punto di riferimento scolastico nel quartiere di Mirafiori, allora in rapido sviluppo industriale ed abitativo in prossimità del nuovo stabilimento Fiat da poco entrato in funzione. Attualmente si colloca a servizio di un contesto territoriale molto ampio e accogliendo moltissimi studenti provenienti dalla provincia. Da sempre radicato nel tessuto universitario e produttivo della zona e attento all'innovazione tecnologica risponde ai bisogni di un territorio complesso caratterizzandosi per il forte legame con aziende, imprese e università, esplicando così appiene il concetto di scuola in rete. L'Agnelli al suo interno offre la possibilità di una scuola secondaria di primo grado, una scuola secondaria di secondo grado nell'articolazione di un liceo scientifico e un istituto tecnico tecnologico e un centro di formazione professionale. Siamo entrati in contatto con l'Istituto Agnelli nella persona di Michele Dettoni ormai un paio di anni fa e si è storata da subito un'ottima sintonia. Insieme abbiamo studiato le loro esigenze tecnologiche e approntato una soluzione tailor made per il rinnovo dei laboratori di informatica. Da sempre la nostra scuola è stata attenta all'ambito IT e a partire dal 2012 ha iniziato un serio percorso di ristrutturazione dell'infrastruttura di rete, rinnovando completamente la sala server e dotando l'istituto di connettività gigabit nonché di una rete wifi capillare. È stato acquistato un primo server Dell per la virtualizzazione e gestione di tutte le macchine dedite al funzionamento delle attività scolastiche e non. Nel 2018 l'istituto ha investito in un nuovo laboratorio per il CAD, Computer Aid Design e la robotica acquistando Workstation Dell, dedite all'uso del software specifico che ci consentono ad un'alta capacità di calcolo e di grafica. Nell'ultimo anno con il nuovo indirizzo energetico il laboratorio viene usato anche per la progettazione elettrica, nell'automazione industriale e il BIM, Building Information Modeling. I futuri possibili sviluppi di queste postazioni potrebbero essere l'utilizzo delle Workstation in ambito realtà aumentata e virtual reality perché i ragazzi possono avere delle competenze decisamente migliori e all'altezza di quanto viene richiesto dall'azienda. Nel corso del 2021 abbiamo affrontato poi un importante progetto di restyling dei locali adibiti a tutti i laboratori dell'istituto tecnico. Con l'occasione abbiamo scelto di rinnovare il macchine acquistando 61 pc Dell Optiflex 3080 Microphone Factor e 61 monitor da 24 pollici. Un importante investimento per il quale ci siamo avvalsi di un partner leader nel settore. La tecnologia e il design dei pc Optiflex ha subito trovato ai miei docenti una risposta alle esigenze didattiche ma anche di spazio per salvaguardare l'eventuale utilizzo dei pc personali da parte dei ragazzi. Parallelmente è stato predisposto per tutti gli allievi della scuola superiore un accesso tramite Active Directory in modo che ogni allievo potesse accedere da qualsiasi macchina e trovare i suoi materiali. Questo grazie anche alla potenza del nuovo server Power Edge R540. Ad oggi abbiamo un totale di 98 macchine Dell dedicate ai laboratori, un investimento significativo per dotare i ragazzi dei migliori device per l'apprendimento laboratoriale. Oggi l'Istituto Agnelli e tutti gli istituti adesso connessi hanno stabilito una vera e propria partnership con Dell Technologies che siamo sicuri sarà lunga e proficua.